L'etica è importante, agire eticamente è fondamentale. In quanto abitanti del pianeta siamo tutti chiamati a operare in maniera responsabile. È su questi principi che ho trasformato l'azienda di famiglia in un esempio di gestione responsabile attraverso tutta la filiera. Per Santoni agire in modo sostenibile e responsabile vuol dire essenzialmente rimanere fedeli ad un'idea di lavoro nella quale estro e manualità danno forma ad oggetti unici.